... Amici di Youtube, ben trovati da Marco Ligueri, il più atteso di un uccello parlante per Alex Del Piero. Ecco un nuovo video sul mio canale. Prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Ligueri. Amici di Youtube, sono stati rilasciati i Toz della Liganne come da previsione. Ci troviamo di fronte a giocatori davvero straordinari, a parte gli annunciati, Neymar, Mbappé e Ben Yedder. Anche Renato Sanchez e tanti altri. Davvero una Toz straordinaria. Atal, Depay, amici di Youtube, davvero pazzesca. Andiamo a scoprire come comportarci sul mercato in attesa di questa settimana che sarà caratterizzata davvero da un Toz davvero eccezionale e tutte le sfide che seguiranno, tutte le sfide inerenti alla Liganne saranno caratterizzate da una grande hype e molto probabilmente ci riserveranno altri ottimi giocatori. Dunque, amici Youtube, metodo dei giocatori oro non rari. Premesso, abbiamo guadagnato tantissimi con gli oro non rari di Serie A. Abbiamo acquistato i vari Pezzella, Zapata e tutti gli oro non rari di Serie A. A 350 li abbiamo venduti. A 1.200-1.300 quando è stata rilasciata la SBC campionato. La SBC campionato della Liganne dovrebbe essere rilasciata tra mercoledì e giovedì e tutti questi giocatori, vedete amici Youtube, io non mi sono fatto mancare niente tutti i giocatori acquistati a 350 e non un centesimo di più è come se non bastassero, amici Youtube. Tac! Eccone altri, quindi non mi sono fatto mancare davvero nulla. E pensate, questi sono tutti i doppioni, gli altri ce l'ho nel club per la Serie Grandi Numeri, Grandi Affari ma amici Youtube ovviamente è un investimento a zero rischi e sebbene nel mio caso io abbia già completato la squadra non ho più tante velleità di acquisire nuovi giocatori però ovviamente lo faccio per mostrare a voi come fare quindi il consiglio è semplice la buona notizia è che siete ancora in tempo ma vi suggerisco di farlo di notte quindi acquistate gli oro non rari di Ligan di notte e in quel momento si riescono ad acquistare a 350 non ho provato di giorno ma credo che di giorno si possa sforare a 400 450 quindi amici Youtube acquistare i giocatori oro non rari di Ligan adesso è un ottimo investimento e giovedì ci permetterà di triplicare, quadruplicare quindi duplicare l'investimento tutte le carte che acquisteremo a 350 si venderanno facilmente a 1100, 1200 forse anche qualcosa di più piccolo consiglio preferite i difensori centrali a un reparto che ci ha permesso di ottenere i migliori affari quindi difensori centrali, oro non rari di Ligan parentesi velocissima sugli oro rari di Ligan ne abbiamo già parlato dovreste a questo punto avere già tanti oro rari di Ligan vi avevo suggerito di acquistare i vari Tiago Mendes, Girotto, Bacayoko, Rulli e chi più ne ha più ne metta do per scontato che abbiate gli oro rari di Ligan e molti di voi come del resto ho fatto io abbiamo già provveduto ad acquistare queste carte all'incirca una settimana fa se non anche prima quindi le abbiamo acquistate a meno di 1000 crediti sicuramente con il rilascio della SBC che richiede oro rari di Ligan queste carte si alzeranno e potrebbero almeno raddoppiare il valore o comunque sì ci permetteranno di guadagnare molto di più rispetto all'investimento iniziale amici YouTube ultima nozione poi ci salutiamo dal momento che il TOTS di Ligan a mio parere è il migliore di sempre forse lo possiamo paragonare solo al TOTS di Premier ma a mio parere la Ligan è superiore per la SBC TOTS di Ligan garantito potrebbero essere richiesti giocatori 87 oppure giocatori 88 amici YouTube sono diviso non lo so ovviamente FIFA 20 volge alla fine quindi è anche possibile che chiedano media 87 ma vista la forza dei giocatori della Ligan non sarebbe assurdo pronosticare un 88 comunque sì amici YouTube consigli sempre gli stessi per gli 87 acquistate e puntate la porta Casemiro evitate i giocatori di Ligan come Thiago Silva o Keylor Navas che si sono alzati un po' gli 87 linkabili di altri campionati gli 88 quindi i vari Royce i vari Neuer Piqué e tutti gli 88 di nazionalità facilmente ibridabili amici YouTube con questo è tutto sperando che possiate fare una bella scorta di tutti i giocatori che vi ho consigliato vado in conclusione tanti mi hanno chiesto Marco Liguri dicci qualcosa sul Tots Ultimate che sarà rilasciato a breve amici YouTube è l'argomento del prossimo video quindi iscrivetevi al canale e seguitemi per scoprire tutte le novità saluto FK Stef e Alessandro Bolis che mi hanno chiesto di essere salutati fedelissimi iscritti che commentano ogni mio video iscrivetevi al secondo canale di Marco Liguri date un'occhiata alla playlist e date un'occhiata anche al corso completo di compravendita che vi ricordo è gratuito una playlist di oltre due ore che vi svela tutti i segreti della compravendita potete anche cercare da Google il corso è come ottenere Gullit in 24 ore quindi amici youtube tanta opa tanta opa grazie a tutti scrivetemi nei commenti quali e quanti giocatori avete acquistato e ricordate amici youtube la legge dei grandi numeri grandi numeri uguali grandi affari più giocatori acquisterete ovviamente più farete affari dal momento che queste strategie che vi sto suggerendo sono a zero rischio quindi amici youtube quello che dovete fare è molto semplice investire senza paura ciao a tutti grazie a tutti